Sta andando bene, sono contento, è divertente e per adesso va bene. Bisogna crederci, bisogna essere convinti di quello che si fa. Con le idee giuste, qualsiasi cosa può funzionare. È un divertimento totale, è un mix di tutto, musica, cocktail, divertimento, spettacolo, qui trovi tutto. È un divertimento completo. Sono artiste che frequentano i programmi televisivi e vederli dal vero fa sempre un certo effetto, è una curiosità. Lo fai per curiosità, per conoscere questi artisti. L'appuntamento è rinnovato dal giovedì alla domenica, veniteci a trovare, non fatevi mancare il nostro locale, non fatevi mancare tutti gli altri, quando siete in giro venite a trovarci, perché le sorprese sono sempre dietro l'angolo.